Interrogative indirette. Le interrogative indirette, al pari delle interrogative dirette, sono introdotte da pronomi, aggettivi interrogativi o avverbi interrogativi. Ma la magia della mattina è scoprire che le interrogative indirette si costruiscono con il modo congiuntivo regolato secondo le regole della consecutio temporum. Quindi avremo come sempre per la contemporaneità il presente o l'imperfetto, indipendenza da un tempo principale o un tempo storico, ma anche in italiano ti chiedo chi sei, ti chiedevo chi eri o chi fossi. Ah, fra l'altro l'altra questione che talvolta si può rendere il tempo dell'interrogativa con l'indicativo oppure lasciare il congiuntivo. La cosa fondamentale e giochiamo in casa è che le interrogative ci danno già il tempo servito, mentre invece nelle infinitive bisogna fare il passaggio di capire se siamo indipendenza da un tempo principale o un tempo storico. Quindi il primo esempio è nesho quid faccias, congiuntivo presente, non so che cosa tu faccia. Il primo caso, nesho quid faccias, è un esempio di contemporaneità. Abbiamo un presente perché nella principale c'è un tempo principale, però se avessimo avuto un tempo storico, nescivi, il tempo sarebbe stato faceres, il congiuntivo imperfetto. Andiamo sotto un esempio con nescebas, tempo storico, quid fecisses, congiuntivo più che perfetto. Sappiamo ormai che quando siamo sotto nello schema, col perfetto il più che perfetto, esprimo un'anteriorità. Pertanto il tempo è già servito, è un più che perfetto congiuntivo, lo rendo o con un congiuntivo trapassato oppure con un indicativo trapassato prossimo. Non sapevo che cosa in passato, suggerisco sempre di mettere un avverbio per, non nella traduzione, ma per capire sul ragionamento del tempo, non sapevo che cosa tu avessi fatto, non sapevo che cosa tu avevi fatto. Secondo me è molto più fine il congiuntivo da rendere, no? E d'altra parte se avessi avuto invece nescio con un tempo principale, per esprimere l'anteriorità mi sarei trovato un perfetto. Entrambi esprimono l'anteriorità, ma cambia il tempo ovviamente perché ci si regola sul tempo della principale. E adesso tocco magico perché nella parte finale, nescebam quid facturus esset, abbiamo il nuovo ingresso. Mentre per le narrative, abbiamo sempre lavorato sui quattro tempi del congiuntivo, per le interrogative si aggiunge l'idea della posteriorità. L'idea della posteriorità si fa attenzione con la perifrastica attiva, che non sarà da tradurre spia, da sto, per, sono sul punto di, ma esprime semplicemente il futuro. Rapido refresh, dixi te venturum esse, non dico dissi che tu eri sul punto di venire, dissi che tu saresti venuto, giusto? Quindi noi già sappiamo, anzi lo ribadisco in questa sede, dobbiamo sapere che nelle tre i, nelle infinitive e nelle interrogative indirette, la perifrastica attiva non esprime spiad, ma esprime il futuro. Facile da ricordare. Nelle infinitive e nelle interrogative indirette, la perifrastica attiva non è spiad, sto, per, mi accingo a, non esprime intenzione o minenza, ma esprime l'idea del futuro. E allora che cosa faccio? Devo guardare in italiano, la consecuso in italiano. Io non so che cosa farai, non sapevo che cosa avresti fatto col condizionale passato, perché per la posteriorità, nei tempi, nelle frasi subordinate, io impiego o un futuro semplice, indipendenza dal tempo principale, oppure un condizionale passato, indipendenza dal tempo storico. Quindi l'esempio è al passato, tempo storico, nescebam quid facturus esses, non sapevo che cosa avresti fatto. Diversamente, indipendenza dal tempo principale, nescio quid, sempre facturus, soltanto con sys. Ecco, quindi perifrastica attiva va il sys perché siamo in un contesto di tempi, tempi principali. L'altro giorno ci eravamo lasciati con la questione annosa delle particelle interrogative né, num e nonne e ci siamo accapigliati parecchio sul discorso della risposta attesa, per cui se c'è un nonne la risposta attesa è sì, se c'è un num la risposta attesa è no. Ora voglio rassicurarvi e regalarvi questa preziosa informazione che nelle interrogative indirette il num, il ne o il nonne esprimono semplicemente la congiunzione se. Quindi cade tutto il discorso della distinzione chissà si dirà di sì, chissà si dirà di no, chissà cosa dirà, perché in questo caso c'è semplicemente da metterci un se. Nescio venias mecum, non so se tu venga con me. Nescivi domumne venisses, non sapevo se venisses, tu fossi venuto a casa. Questione molto semplice, cioè ci solleva non poco questo dalle questioni della risposta attesa perché apprendiamo che il ne, il num, nonne hanno lo stesso significato, cioè si traducono con il se. Degli esempi circa l'uso del ne e circa l'uso anche del modo congiuntivo. Domumne venisti è la domanda diretta, il ne non si sa la risposta, quindi non si traduce con forze, negazioni, cose strane. Si traduce, sei giunto a casa, sei venuto a casa, punto di domanda, ma se io trasformo questa domanda diretta che è al punto di domanda e quindi domanda diretta, lo trasformo in una interrogativa indiretta, intanto trovo la principale e quindi la principale vuol dire che c'è per esempio ex tequero, ti chiedo, poi ci sarà il ne e in clitico e il tempo per esprimere l'anteriorità sarà un perfetto congiuntivo perché il perfetto esprime un'anteriorità indipendenza dal tempo principale. Mentre invece se dovesse esprimere un'anteriorità indipendenza da un tempo storico, l'anteriorità indipendenza da un tempo storico la si fa con il congiuntivo più che perfetto e quindi venisses e poi il ne che si legge venissesne. Quid facemus? Quid facemus? Che cosa faremo? La posteriorità si esprime nell'interrogativa indiretta con la perifrastica attiva, costruita con facturus e sim se siamo indipendenza da tempi principali e sem se siamo invece indipendenza da tempi storici. Quindi nel primo caso non so che cosa in futuro noi faremo, va facturissimus, nel secondo caso non sapevo che cosa noi avremmo fatto col condizionale passato. Un altro esempio, nun fecisti hoc, esprime un'anteriorità. Nell'interrogativa diretta il num sta a indicare che la risposta attesa è negativa, pertanto hai forse fatto ciò? Oppure forse che hai fatto ciò? Nella resa indiretta, quero, resta il num, in questo caso dovrò mettere per l'anteriorità nel presente un congiuntivo perfetto, che poi corrisponde all'italiano nella consecuzio. Chiedo se hai fatto ciò, senza forse o cose strane. Chiedo se hai fatto ciò. Invece se c'è quesivi, metto di nuovo il num in testa e l'anteriorità la esprimo in dipendenza da un tempo storico con un congiuntivo più che perfetto, quindi fecisses. Chiesi se avessi fatto ciò. Ho proposto l'esempio con il num, ma va da sé che se la frase latina fosse formulata con feceris ne, il senso sarebbe identico, perché l'uso del num o il ne non è la discriminante rispetto alla risposta attesa. Sono domande e basta. Nell'interrogativa indiretta non c'è questo riferimento. E puoi trovare anche il non, è certo. Ribadisco che nella domanda diretta l'uso della particella fa la differenza rispetto alla risposta attesa. Nella domanda invece, nella domanda indiretta, nell'interrogativa indiretta, l'uso della particella non distingue la risposta attesa. Non c'è in gioco il discorso della risposta attesa.